omi mi ha sfidato a scacchi faccio schifo a scacchi ragazzi faccio veramente cagare a scacchi erano vuote erano vuote erano vuote a meno che non si è bigfoot in alto a sinistra e preme d'invio ho fatto porco dio ma che cazzo sono tutti i craccati madonna che urlo dov'è era sotto cos'hai detto cos'hai detto si ha pulito purtroppo ogni tanto esce ogni tanto riesce ad uscire ma io lo ributto al suo posto perché cazzo c'è la seconda in cantina via non abbiamo la cantina è uguale vai fuori vi ricordate quando cercavo la casa con il balcone la verità è che il balcone non serviva per il caffè serviva per chiuderci giorgio quando io ho voglia di stremmare serviva questo il balcone nel sottoscala come harry potter poi sono morto sotto a pavallina credevo sotto sotto potrei dire tappato 90 riammi saranno già aperto tutto questi allora prendiamo l'ulto di cosa hanno le carte loro regalo tale vi la roba sul mio cadavere che sta dalla presa presa fatemi dare una cercata giù ho preso tutto il tuo luce io non sono riuscito a notare tutta la roba di questo rega io li ho luttato tutto quello che potevo ho preso un altro hazmat arrivo scendo con te che si ok arrivo anch'io io ho il tp se qualcuno vuole farmi di qua fuori io ho il ride block per prima anch'io due minuti ragazzi sono fatti tutto scusa cosa ti dà sta roba aspetta provo ad andare fino in fondo beh abbiamo due mp5 ragazzi io ho preso c'è una k anche c'è ancora roba nel cadavere c'è un barrel e lo zoo vabbè c'erano i player volpesco e nanni credo ci sono pure granate regata a prendere appunto andiamo nell'altà oh giorno 4 giorno 3867 il bigfoot continua a non cadere giù nonostante i molti espliciti andiamo nei cartelli Ross Lake giorno 4 stiamo cercando bigfoot bigfoot dietro dove preso l'ho intato 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 bravo bravo io sono proprio uno sporco nerd bastardo o sbaglio nerds nerds perchè ha messo la solo zero sull'amax niente non lasciatevi da solo non sei da solo gianco è il bigfoot dai non mi hai un po' di coglioni no lupetto è un lupo è un lupo questo ma lupo dove siete voi credo bumba di qua dove andiamo sto bevendo il caffettino scusa io ti lascio indietro che bastardo no no cazzo il margolino che comunque posso accendere un fuoco eh facciamo un fuoco io sto a 36 gradi punto ooo ah porco due che cazzo è ragazzi se qualcuno supera i 37.5 la notte aaaaa aaaaa aah c'è successo stoppalo ma che cazzo nel chilling a quanto lo pago è un botto zi il mio costa una cifra costa una cifra un botto costa la luce di lomba la luce di lomba un bacione belli buoni game buona fortuna al prossimo game stelloni bye bye e usso i faccio schifo boys è vero sono andato un po meglio di prima meglio di prima stiamo ricamare c'è uno dietro uno dietro con la capa lo spara da quel muro lo spara da quel muro lo vedi e anche quello sopra la ciuro lo vedi taggalo in testa un colpo fatto quello sopra torre fatto c'è chi non ce l'abbiamo noi no c'è chi non è invisibile oh mio dio ma potremmo fare un bel bait chi c'ha la carne eccolo è fuori chi l'ha morta chi l'ha morta sta buttando la barracca sta scappando il frattone ma stai scherzando oddio ragazzi ragazzi ho sentito un rumore raga ha fatto l'ha fatto il mio drone TOLESALE CAM TOLESALE CAM aspetta lo glitcho chiediamo umilmente scusa a dei problemi chiediamo scusa ma io non c'è tru cazzo ma io non c'è tru cazzo ma fango qua davanti ma io non c'è tru cazzo man ci stava di guardia giurata dentro gli è preso un infarto Ha detto tutto stumato con le mie vicine che sprava Non si mi sa che sto appena tornati gli amici in barche Che hanno fatto la oil Ma tanto mi viene dall'altra parte Charlie grazie mille per l'host benvenuti canottari come state Grazie mille canottari Much love boys Grazie mille Charlie benvenuti canottari Come state stelloni Carichi per i toti Carichi per i toti Ho tre buone Oh no qua ce ne stanno altri quattro Biancetti Ho fatto un bel po' di proie Allora è un po' di proie Dei tommy No i tommy non li ho imparato io Allora è un po' di proie